musica salve gente sono casa 90 come c'è alex caos e siamo qui su un nuovo siamo qui in chiesa su un nuovo episodio di the island e dobbiamo parlare con bruno ci aiuterà a trovarli buono idea di cosa tu mi abbia detto però si certo in pratica vuole rinforzare la chiesa vuole rinforzare la chiesa contro gli zombie quindi non ho capito cosa vuole la fortezza di dio tipo vuole ma sono tutti uguali questo qui tra l'altro assomiglia a quello che abbiamo appena parlato aspetta che mi rifornisco un po di vita che è pieno di roba attiva quanti ammeline come potete vedere c'è un bellissimo shotgun in questo in questo momento quello che ho preso nelle fogne e cosa andiamo a fare questo qua vicino sto chiamando vicino ma sto chiamando prima nope il fatto che sta piovendo è una cosa molto brutta perchè mi va a fanculo mi va a fanculo gli fps joseph è qui a terra ah ho sentito tossire ho detto che cazzo se non mi sentire ma che cazzo ti è successo erano ubriachi che cazzo volevano tenere da lì per sfruttarla ah ok si chi devo puoi entrare nelle fogne basta le fogne no amiche non le posso più non la faccio adesso non c'è una stazione di polizia passando per le fogne di nuovo cioè dobbiamo tornare da dove ne siamo appena no se ne siamo un'altra per favore perchè non ne posso più ma ci puoi contare eh vediamo un po' inventario, giocatori, missioni allora possiamo fare perchè questa è principale fortezza non puoi seguire la missione secondaria mentre stai partecipando alla missione della trama in cooperativa ma porca puttana adesso le fogne ce le facciamo tutte correndo vai d'accordo che mi va ultima cacchina eh ma sei partito da 30 metri avanti non vale non me ne sfrega nientes stronzetto la stamina mi finisce subito ciao tranquillo intanto si gira qui no si gira lì dove stai andando tu yep quanto mi sta scattando eh anche un pochino ho provato ad entrare in una porta ero sul muro vai che si corre zio vai che si corre non facciamoci vedere dagli zoom dagli zoom questo è molto stilt facciamo un incrocio tra dead island e stilt island stilt island ma anche come si chiama col gioco mirror's edge vai mirror's stilt island mirror's island o dead mirrors dead mirrors no specchi rotti che cazzo no specchi morti eh specchi morti oh zio correre sotto la pioggia mi eccito non so anche a me lo sa tanto di di cattivi aspetta un po' questo vuole c'ha un po' coda di razza ma che cazzo coda di razza coda di razza mi vende ma stai scherzando? no coda di razza il tirapugni ma niente tirapugni oh no no a cento metri vai in urlo non riesco a entrare qua sotto perché ciao ma si può ciao fai texter di merda si ti stavo tipo semi aspettando dove cazzo ti e lo supero eh non ho capito perché mi si è bloccato il personaggio zio c'è uno a destra ti sta picchiando il niente dobbiamo scendere qua adesso ce l'ha con te lo butto a terra corri corri aspetta zio ti ho liberato del tuo peso fotti te ne ah siamo arrivati qua sono le fogne ah in attesa dei altri giocatori vieni oè ce l'abbiamo fatta grande stavo scappando malissimo nessuna buona azione ma le fogne non le voglio vedere per cui le velocizziamo non ci si vede per te abbiamo già cominciato a velocizzare no a via d'altra parte su tutti e c'è già gente scusi vuole vedere vuole farmi provare il mio nuovo shotgun funziona e uno leandro trovato se stai nello stesso mandato no non ci spreco il munizio del romano show non le spreco su quello secondo te aiuto io sto con la nostra porca bagassa che buona moro ma non c'era poco dei promessi che facevamo in fretta e lo so ma se sono tutti mezzo al cazzo perché è più buio di prima come cazzo è possibile la più pallida idea vabbè io continuo dritto questo qua lo boh scendiamo qui vabbè almeno ci dice il bello è che più camminiamo per arrivare avanti più i metri ci sono di distanza esatto è la zona dove questo mi sa che si gratta e cuglioni da solo perché io proprio non ne ho intenzione ciao ci vediamo addio tu lo so che sei dietro di me non ho voglia di cagarti scusami corri che ci sono io dietro salve salve andiamo tutta posta boh morto tu invece come stai tutta posta boh bellino siamo arrivati oh che bello sono finita in fretta trova l'entrata del parcheggio sotterraneo bla 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 andiamo oh e le foglie son finite cioè abbiamo se no siamo sbrigati in due minuti esatto perché non avevamo voglia di stare ancora nelle foglie la stazione di pulizia penso che sia diversa dal municipio stilo adesso vediamo non siamo mai stati qui per quanto mi riguarda e guarda là ci sono le nostre ombre guarda che figo guarda aspetta sto per tirare guarda oh zupanya oh zupanya oh zupanya oh zupanya ma guarda questo oh zupanya ci va a venire basta il mistero della pietra che cazzata che quel pezzo è diventato ah qua c'è già troppa troppa già si è entrata da qui venghi 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 fantozzi boh è bella che non ci sono zombie momentaneamente aspetta che qua ci sono denaro a scopio qua è qua cosa è sta roba registrazione ah zio io vado avanti per liberarti la strada ho trovato un nastro che si sta autoriproducendo da solo wow qua mi sa che c'è un po' di gente mi sta andando tutto a scatti si dio santo quanto è buio merda dietro di te minchia la scoppia fa sempre ridere come avete visto forse non l'avete notato ma la bacchetta magica è passata a me per il momento perché abbiamo scoperto se era un'arma da impatto esatto alex è più forte che le armi da impatto e le uso meglio io per cui qua c'è un suicider vediamo di farlo esplodere non manca neanche però questa stazione di polizia mi piace come ambientazione molto lugubre e tu sei vivo però vero che sei vivo ho detto che sei vivo visto che io comunque sono più forte con le armi da taglio io mi tengo le armi da taglio quindi alex si terrà le armi da impatto ma io questo l'ho colpito veramente stai giù boh mi ve ma me l'hai rubato c'erano mezz'ora lì oddio sono di quelli grandi perché adesso è più veloce allora qua c'è tipo uno che zio qua che figo è questo posto aspetta lo deve venire assolutamente è bellissimo a parte il fatto che oh sta roba aspetta che sta registrazione che ho preso è ancora attiva non capisco una minchia c'è gente che sta fisso urlando il pistola dormiente ho preso un'altra comunque eh ok cosa c'è ora ci sono vieni qui perché è bellissimo sto pezzo aspetta che c'è una carta d'identità qua dentro azzio e tu qui dove sei arrivo qui guardate che bello scenario attento dietro di te perché è pieno di gente l'ho visto però non penso riesca a entrerci ma questo è uno di quelli grossi si porca puttana che male l'ho detto che era uno di quelli grossi no è un camminatore e basta wow ok splat addio testa ho fatto un achievement buono oddio bo bo ok quello è il bc dai bc è bellissimo 56 dollari questa è una prova 48 dollari qua c'è un cavo qua c'è un cazzo dovevo entrare qui dovevo entrare lì qua non c'è però non è in pericolo oddio perché sta musica ma io mi prendo una bandana ma anche io scusa un attimo perché vabbè prendere un paietto e fammi prendere la shotgun ah ci sono sparattini slavatina verrico visto che tutti i chiavi no come le aveva detto visto che tu no non mi ricordo come che tu sei 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 insulsa cosa che aveva detto no ma io mi chiamo davvero davvero tizia e quello mi ha detto ah visto che tu ti chiami davvero così per differenziarti dagli altri ti chiamerò slavatina revolver ingannevole ti serve doppietta pesante ti serve no grazie però questi qui mi stanno un po' scassando la fama e fatela scassare zio dove ti dico io devo un attimo cambiare perché mi serve mi serve quella a me effettivamente devo buttare questo non me la scasserà più scarta questa ok devo prendere la doppietta e mi prendo un pochettino neanche questo me la scasserà più buona arrivo arrivo con la mia doppietta a chi serve un po' sono solo due volendo si può entrare fisicamente tre oh fu una minchia metto 3000 critici addosso bow 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 come cazzo fai se è ancora in piedi dopo quattro colpi di doppietta addosso zio mi ha buttato a terra quattro colpi di doppietta e non moriva come cazzo è possibile eh non lo so era un boss se una persona duri così tanto davvero inventario pieno vuoto inventario pieno vuoto c'è una pistola sottile questa è nuova perché essendo sottile chissà che mai vantaggi potrà avere beh magari non lo so è più leggera da portare qual che c'è 96 dollari così su una sedia vabbè un frammento elettronico sul coso ok che posto ambiguo direi che siamo un po' vieni che saliamo poi c'è la luce che è tipo stiamo stiamo andando verso il paradiso oh oh stiamo scendendo ok basta però avete rotto il cazzo attenzione avete un po' rotto il cazzo mi sa è morto no via scusate posso schiacciare la testa a te si posso sto la media velocità no non ci serve caro wow a te schiacciando la testa a tutti zio io faccio lo schiacciatesta questo è vestito da dottore ah no avevi un giubbottino scusa ad�are tutto 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 perché è stata scusa no ho fatto un adshoot prima mi spiace gli spiace zio mi spiace è morto più semplicemente per uno schiaffo munizioni e pistola se ti serve non ce ne sono qui prese grazie allora qui c'è l'ultimo stronzo che no ha capito un cazzo dalla vita c'è alcool non ti sembra strano che troviamo sempre noi l'alcol no, vero, sembra che vogliamo farci ubriacare ehi messaggi subliminali, ho trovato alcol dentro la spazzatura, cioè ma che cazzo gente strana ma ne ho, no non ho più molotov, palle sto cercando qua merda roba tu vai e distruggi tutto a me piace cercare in mezzo ai computer roba non volevo bere la bevanda quando avrei sfondare, vediamo se ci riesco di nuovo al primo tentativo no a cab, l'hai visto? a cab dai bici zio entro oggi magari eh ah sei dietro di me? non riesco a farlo si non me lo fa più fare, si è baggato lo sai non è vero vedi la scena minchia questo bam e tu invece? che ne dici? me ne fai ammazzare una menta ah scusa, aumento di livello bici bastardo quanto ce ne sono ancora tranquillo ecco lo si qua c'è roba da mangiare e da bere se ti interessa al massimo uh qua quanta gente oh zio te sono a posto scherzo usa molotov qualcosa mother fuck che fai? niente raccogliendo batterie ah ti vedevo molto impegnato accirma è sviluppato studiate coscienzioso che significa? raggiungi il livello 25 ci sono anche tizie qua in mezzo tizie? dove? eh 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 la senti tizie le combatto io uh aumento di livello vai grande ole è fatto un casino adesso aspettiamo che il fuoco si estingua aspetta un po' in fondo c'è un chizio che si estingua porca bagassa che termini ricercati porca bagassa calpicino che cazzo ben mirato come pochi uncchia quanti colpi vuole una persona normale per prima di morire madonna eh perché qua sono mutati sono uh gli ha dato shock dai cazzo quando mi serve oh una carta d'identità mia una carta d'identità mia perché tenerte eh c'è problema a me io volevo un po' di dai li ho visti prima dove erano le bevande questo non so non vuoi un fucile automatico qua no non mi piace un armi da fuoco ok ah lo tengo i cioè non mi tengo una pistola aspetta un po' che devo aumentare qualcosa qua aumenta danni con armi da fuoco aumenta il danno inflitto con un lancio aumenta la probabilità di ficcio un colpo critico con armi a una mano eh sì questo dai no che cazzo è successo video ah ma questa è la tipa che che me lo fa drizzare esatto no ma perché stanno uscendo i maschietti lecchiamocela ragazzi finalmente ce la possiamo leccare no ce la possiamo vedere a vicenda oddio cosa ti hanno fatto oh mi ha aperto in due io voglio solo andare via voglio andarmela ma sei coglione no me l'hanno stuprata poverina guarda se in b quanto è quanto è cattivo io sono l'assaut guarda si potrebbe doppiare benissimo così tipo l'hanno stuprata non si comprende oh stessa ragazza bagasse traduzione non ne abbiamo lasciamo alla vostra immaginazione ascolta ho visto sua nonna e stava bene l'altra volta allora andiamo e la troviamo e gli portiamo i dolci hai capito che cosa ci offre il limoncello ehi proprio un brinca di limoncello ahio cioè il limoncello lo fa da molto al nostro è per quello che ti ho portato il dolcetto si è arrivato un po' in ritardo ce la dovevamo studiare prima se non rendevo che il cambiamento città di moresby finalmente ci ha fatto saltare le fogne forse grazie speriamo perché non è possibile ogni volta ste cazzo di fogne madonna vediamo un po' andossiamo ah siamo davanti alla chiesa oh buono così siamo con sta trozza che è bello che ha una missione per noi non prenderla facciamo prima il missione no no tranquillo sicuramente questa è per andare da qualche altra parte vabbè quindi ci mettiamo così a guardarle le tiz e gente spero che queste tiz vi piacciono e ci si vede no le ho toccate scusa mi tizia non volevo vieni qua e ci probabilmente è stata assoprata a sangue adesso noi stiamo facendo la stessa scusatemi gente ma c'è un po' di tosse in sto periodo e niente ci si vede presto siamo qua su un'altra avventura di the island scritto come the d land esatto bobby 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 e ci si vede Grazie a tutti.